Non c'è stato nessun ammutinamento, nella maniera più assoluta. È successa una leggerezza che può succedere in tutte le migliori famiglie, non nelle migliori squadre, nelle migliori famiglie. Però succede anche che nelle migliori famiglie il responsabile, il papà o la mamma, in quel caso lì, si arrabbi, si arrabbi con i propri figli. E così ho fatto io. Ed è successo, ma è rientrato un'ora dopo, era già chiuso il caso per me. Perché comunque, ripeto, può succedere, non è partita dal gruppo, ma è partita da un singolo ragazzo che ingenuamente ha commesso questo, ma è rientrato subito e immediatamente. Nel senso che l'indomani noi avevamo già archiviato questa pratica. E per questo io mi sono arrabbiato, per questo è successo questo. Io sono democratico, ma sono anche una testa di C, punto, punto. Nel senso che do massimo rispetto, ma esigo anche rispetto. E questi ragazzi qua, di rispetto nei miei confronti, ne hanno avuto sempre, sempre molto, nella maniera più assoluta. Inauguro che la curva ci sostenga, che dopo l'intervista del capitano, l'intervista della società, l'intervista mia, capiscano che all'interno nostro non c'è compattezza di più, c'è stata una leggerezza, ma nessuno, nessuno ha voluto prendere decisioni diverse da quelle che erano state dettate dal sottoscritto. Questo deve essere non chiaro di più.